Grazie per questa opportunità, quella di dire ma anche di ascoltare e di raccogliere le sollecitazioni che arrivo, anche l'esperienza, un sapere applicato al futuro, non soltanto uno sguardo su quello che non è accaduto in passato. Quando pensiamo alla Sicilia, mi viene in mente una metafora, che è una metafora un po' malinconica ma necessaria, la Sicilia è una terra straordinariamente capace di acquistare palazzi e vendere mattoni, come dire, una terra che ha grandi risorse dentro di sé, un logene, è un giacimento straordinario di qualità, di energie, materiali e immateriali, ma acquista palazzi e poi li smonta e rivende mattoni. L'energia termodimanica, l'isola del sole, le energie rinnovabili, fare di questa terra anche una piattaforma avanzata, un laboratorio che possa utilizzare queste energie per sé e per altri, è una delle scommesse naturali che in Sicilia dovremmo affrontare. Io penso ad un esempio che faceva Rubio prima di andare in Spagna, quando raccontava che se noi immaginassimo nel deserto, quindi senza alterazioni di sorta, di costruire un quadrato di 100 km per 100 km termodinamico, daremmo energia all'Europa. Se il quadrato fosse i 10 km per 10 km daremmo energia all'Italia, naturalmente è improbabile immaginare di ritagliarsi 100 km di spazio in Sicilia, ma ci fa capire come l'energia solare in una terra come la Sicilia è un'energia naturale, necessaria, di immediata utilizzazione, se riusciamo su questo a costruire un investimento che sia l'intelligenza politica. E questo passa per esempio attraverso un primo problema che abbiamo in Sicilia. Abbiamo un elettrodotto che non è capace di convogliare, utilizzare tutta l'energia prodotta. Quando vi muovete lungo le autostrade siciliane voi trovate questa filiera di eolico fermo, perché l'intasamento è naturale, la capacità di trasferire l'energia non funziona, va potenziato, soprattutto se vogliamo immaginare di vendere energia. Dobbiamo immaginare un rapporto diverso con l'Unione Europea. Vedete, questa vicenda dell'Unione Europea è una vicenda strategica, riguarda le energie, riguarda la qualità complessiva della nostra vita, riguarda i processi di innovazione e informatizzazione, come accennava il Vicepresidente Catanzaro. Abbiamo avuto un miliardo a disposizione per poter informatizzare quest'isola, che vuol dire dare un servizio utile agli imprenditori nell'espletamento della loro partnership, anche burocratica e amministrativa con la Regione, o la possibilità di abbreviare i tempi d'attesa per prestazioni sanitarie. Siamo ancora costretti a ricondurre tutto alla penna e alla carta, perché di questa informalizzazione non c'è traccia. Come sapete abbiamo due società per azione partecipate alla Sicilia che sono state messe in liquidazione con un buco in bilancio di 150 milioni, che avrebbero dovuto utilizzare queste risorse, che avrebbero dovuto informatizzare la Sicilia e non sono stati capaci di farlo. Io credo che il rapporto Unione Europea vada ripensato in questi termini, vada ripensato anche immaginando il modo in cui le energie rinnovabili diventano un punto di qualità di un programma di sviluppo alternativo in Sicilia. Penso al programma Horizon 2020, il piano europeo per l'innovazione, che vuol dire smart cities, cioè città che siano intelligenti, perché capaci di offrire una diversa qualità della vita. Penso a tutti gli altri punti di merito che sono contenuti dentro questo programma, che si rivolgerà alla Sicilia, che metterà a disposizione non soltanto della regione siciliana, ma anche del suo tessuto imprenditoriale, anche della capacità di intelligenza che produrrà nei territori risorse cospite. Credo che il primo impegno della regione, mettendo insieme questi due elementi, da una parte le straordinarie risorse che offrirà l'Europa, dall'altra la straordinaria vocazione che ha la Sicilia sulle energie rinnovabili, l'impegno di un governo regionale debba essere quello di creare sinergia fra tutto questo. Non è stato così fino adesso. Noi dobbiamo guardare il futuro e immaginare di costruirlo secondo linee, qualità, virtù diverse, senza dimenticare il passato. Abbiamo avuto 18 miliardi a disposizione con Agenda 2000 in questi anni, abbiamo speso poco più dell'8% e abbiamo frantinato la spesa e questo ha prodotto dell'informatizzazione. Se c'è qualcuno in regia, perché c'è un qualche link qui acustico che sarebbe il caso di disinnescare. E' stato disinnescato. No, sì. Però è più pacato, è più rispettoso della nostra conversazione. Vi dicevo, il problema, quando noi immaginiamo Horizon 2020, le smart cities, la disponibilità per investire sull'energia rinnovabile, dobbiamo anche ricordare che di questo 7% di spesa europea noi abbiamo fatto un'operazione politicamente criminale, considerare una rapina di risorse, nel senso che ciò che doveva andare, come dovrebbe andare in futuro col nuovo programma europeo, a beneficio di alcuni interventi strutturali, cioè strategici, costruire un modello di energie rinnovabili a supporto di un progetto di sviluppo diverso, una funzione strategica, vuol dire concentrare le spese, le risorse, le intelligenze amministrative in quella direzione. Avevamo 4-5 asset fondamentali sui quali costruire un'idea di sviluppo che raccogliesse le risorse europee e l'abbiamo trasformata in 40.000 misure. Gli amici Confindustria lo sanno bene, in 40.000 misure non sono esempio di intelligenza né di virtù amministrativa, imprenditoriale o politica, è un modo per disperdere la spesa in 40.000 arrivoli che non producono nulla. A questo appuntamento prepariamoci consapevole di ciò che abbiamo fatto in passato e prepariamoci anche, vado a chiudere, pensando quali sono le straordinarie opportunità che ci mette a disposizione quest'isola del sole, quindi la possibilità di investire sul termodinamico, disponibile naturalmente, con grande piacere andare a firmare la carta che propone Fred. Io penso ad alcune cose. La prima è stata sottolineata da molti di voi. Noi costruiamo un lavoro che non è delocalizzabile, che è una cosa importante. Penso a termini merese, penso come ogni tanto per una modifica nelle intenzioni e le strategie di impresa, tu prendi uno stabilimento, lo smonti e lo rimonti i cavi in mano in Serbia e in Polonia, magari sono duemila persone che hanno il problema di trovarsi lavoro, energie rinnovabili, termodinamico vuol dire sole, vuol dire Sicilia, non puoi prendere il termodinamico che costruisci qui e lo smonti e lo rimonti in Serbia, in Polonia o in Veneto, per cui si tratta di una filiera nostra, di una filiera italiana, di una filiera in cui la tecnologia, la qualità della tecnologia applicata, le risorse e il consumo, l'uso di queste risorse, sta dentro una filiera che riguarda il nostro paese e naturalmente con un lavoro che qui resta. Seconda cosa, è una sfida che riguarda anche la formazione, noi parliamo di una terra che ha prodotto un bacino di formatori che conosciamo soltanto noi, credo che ci sia lo stesso numero di formatori che ci sono negli Stati Uniti d'America, quasi 10.000, un terzo di quelli che ci sono in tutta Italia, dico cose banali e non voglio dire in modo rozzo, demagogico, perché ho grande rispetto anche di queste donne, di questi uomini, di ciò che rappresentano, vanno, come dire, riqualificate, non solo motivate, riqualificate affinché possano costruire un'offerta formativa che sia attrezzata, attrezzata ai tempi, allora cominciare a formare chi possa avere un know-how da spendere nel campo dell'applicazione dell'energia rinnovabile del termodinamico e una delle cose che mettono a frutto risorse che noi abbiamo, una spesa pubblica che noi abbiamo già e che potremmo farla diventare non improduttiva, non parassitare, ma produttiva. Credo che con un lavoro che va fatto sulla ricerca, sulla sperimentazione, un investimento che ancora ha bisogno di macinare molti passi, si possa anche andare a un ridimensionamento dei costi che in questo momento per il termodinamico sono abbastanza alti e il tema dell'energia e dei costi mi rivolgo in questo caso al dottor Catanzaro a Confindustria, è un tema essenziale, veniva ricordato in uno studio di pochi giorni fa che un'ora diciamo di produttività nel mercato siciliano ha costi supplementari rispetto a quella di qualsiasi altra regione italiana che sono di quattro tipi, uno è legato alla logistica, la nostra logistica è quella che conoscete, abbiamo meno chilometri di ferrovia di quanti ne avessimo nel 1890, l'80% a binario unico e poche tratte elettrificate, andiamo avanti con le littorine, con i treni a vapore che sono molto romantici ma un po' lenti e il tema della logistica sono temi che incidono, insistono su una diminuzione di produttività dell'ora messa a disposizione dall'impresa alla società, un secondo costo è quello legato alla burocrazia e anche qui mi rifaccio all'intervento di Catanzaro, un'isola che ha fatto l'informalizzazione carta, penne e calamaio naturalmente assume su di sé un costo supplementare in termini di tempi di spreco di risorse e energie, terzo costo non soltanto il titolo lo svolgimento lo farà ciascuno di voi è quello della legalità che è un costo supplementare e il quarto costo è l'energie. diminuire uno di questi costi assieme agli altri vuol dire anche rendere più competitiva la nostra proposta produttiva. Altro punto, penultimo punto può essere un ponte verso il Mediterraneo la Sicilia può avere davvero una leadership straordinaria in questo settore potremmo cominciare a immaginare il Mediterraneo come un ponte non più come una somma di frontiere un mare che produce diffidenza ma è anche un mare che può produrre una straordinaria ricchezza sociale economica noi siamo al centro di questo mare la Sicilia è al centro delle rotte su cui si incrociano tutti i traffici di saperi di merci di persone se attrezzassimo i nostri porti per l'intermodalità saremmo in condizione di essere soltanto per questo una piattaforma strategica ad esposizione di 23 paesi 500 milioni di abitanti e il 25% dei traffici commerciali che si svolgono sull'Europa ma non siamo attrezzati per questo l'impegno di un governo regionale deve anche assumere su di sé quest'onere e questa sfida e l'ultimo punto gli ultimi due punti uno è che il termodinamico è anche una occasione di riqualificazione ambientale quando noi parliamo di ambiente in Sicilia come dire parliamo di una parola che è subito spigolosa che è una parola che ci preoccupa sapete cosa è successo all'Ipari qualche giorno fa la riqualificazione dell'ambiente la manutenzione delle cose dell'ambiente allo stesso tempo anche utilizzare aree industriali dismesse discariche sature e quindi dismesse per poterle mettere a disposizione del termodinamico è una soluzione che serve non soltanto a recuperare individuare un'area ma anche a recuperare una particella una porzione di ambiente che altrimenti è considerata residuale ultimo punto su questo tema sul tema delle energie rinnovabili su come fare della straordinaria vocazione di questa terra una risorsa strategica applicata declinata alla ricchezza sociale alla ricchezza economica si gioca anche una grande sfida di democrazia su questo e su molti altri terreni dico su questo perché devi riuscire a mettere in sinergia molte come dire molte intelligenze molte responsabilità non decide la regione dobbiamo venire via da questa idea antica molto praticata nel passato recente con gli ultimi governi di una regione centralista che tutto assume su di sé dalla pianta organica alla scelta di qualsiasi ritmo da dare alle autorizzazioni la regione deve essere un luogo che governa la rete di poteri sociali e poteri istituzionali che esistono innanzitutto sul territorio e partnership condivisione vuol dire che quando parliamo di energie rinnovabili di un nuovo progetto di sviluppo dobbiamo mettere in rete tutto questo la regione deve essere la capacità di tenere virtuosamente in rete l'imprenditoria le associazioni di categoria gli enti territoriali le associazioni di cittadini con uno sforzo di democrazia e di responsabilità che non sempre in passato abbiamo saputo esercitare per cui non è soltanto una straordinaria occasione sul piano di un diverso assetto dello sviluppo energetico della Sicilia di un diverso modello di sviluppo ma anche di una diversa idea di democrazia grazie grazie